Diva è una nuova metalloceramica ideata, progettata interamente in azienda. È un concetto totalmente nuovo per quanto riguarda le ceramiche, infatti si è cercato di ottimizzare un prodotto, una gamma molto concentrata ma altrettanto flessibile per poter coprire tutta la gamma della tinta della scale vita. Con Diva abbiamo realizzato un percorso nuovo perché con 46 masse abbiamo l'universo della metalloceramica. L'odonto tecnico potrà scegliere in un ambito ristretto di flaconi tutte le masse necessarie per realizzare il meglio dell'estetica. Questa è una ceramica compatibile con una gran parte delle cromo cobaltini, che il cromo è presente sul mercato europeo e internazionale, ma anche con le leghe preziose, quindi è un prodotto veramente flessibile. Oltre ad aver cercato una soluzione estetica abbiamo cercato un materiale quindi con una stabilità termica e delle proprietà meccaniche uniche. È un prodotto che è partito da zero ed è stato sviluppato secondo un obiettivo ben preciso dell'azienda, conoscendo benissimo le esigenze dei clienti che sono i laboratori antotecnici di oggi italiani e a livello internazionale. Oltre a questo abbiamo lavorato tantissimo per quel che riguarda il packaging, che risponde a livello estetico del prodotto, ma non solo perché il tray che fa parte integrante del kit col quale viene presentato il prodotto è un tray che sta benissimo su un banco, ma può anche essere utilizzato a modi quadro, non solo da un punto di vista estetico ma proprio da un punto di vista ergonomico. È autocentrante uno sull'altro quindi i flaconi non cadono assolutamente neanche ribaltando il vassoio, ma questo si presta anche ad essere appeso al muro sia per una comodità ma anche per un discorso di ergonomia perché spesso sul banco del lavoro si tende a tenere quei 4-5 flaconi necessari per l'utilizzo del prodotto. Sicuramente è un prodotto che farà parlare di sé perché è centratissimo, abbiamo visto i risultati, gli odontotecnici che hanno avuto modo di testarlo nei primi 7-8 mesi di vita hanno confermato la bontà del prodotto.